signori signore maghi e non buonasera bentornati sul canale youtube youtube twitch e se sono stanco dopo una live di tre ore stamattina di nuovo eccoci qua io sono il vostro caro cristiano paglioni con i quartiere e siamo qui oggi con una novità assoluta non per anime click ma per anime click twitch perché circa un anno e mezzo fa io un po stufo che la pandemia stesse ostacolando alcuni progettini che noi avevamo in serbo ho deciso di inaugurare una nuova rubrica sul nostro canale youtube ovvero life is a tabber la vita di un doppiatore una rubrica in cui mi ponevo come obiettivo quello di portare non solo i doppiatori ma anche la vita dei doppiatori mostrare quell'umanità che secondo me raramente in alcune interviste gli intervistatori sono in grado di tirare fuori e far capire anche l'essere umano che c'è dietro il doppiatore la rubrica diciamo che su youtube si è saputa lanciare bene ha avuto un suo buon seguito abbiamo avuto anche ospiti di eccezione come angelo maggi e gabriele patriarca e piano piano si è attestata portando sempre più colleghi ma era arrivato il momento di fare un salto di qualità di fare qualcosa in più di salire lo scalino e passare da youtube a twitch un format che secondo me dà molte più potenzialità ha il bello della diretta ha l'interazione diretta e immediata con l'ospite con il quale non devo concordare per dire di mandare video di registrare indifferita le domande e le risposte e cosa più importante c'è l'interazione con voi perché al di là di quelle che magari possono essere le domande che faccio io che fa il il conduttore di sorta anche voi avete avete un po diritto a far parte di questa di questa avventura oggi inauguriamo la prima puntata di life is a dubber twitch edition con una persona che oltre a ritenere un gran collega è anche un grande amico voi probabilmente lo avete lo avete molti di voi in mente grazie a sanemi shinazugawa di demon slayer io ce l'ho in mente perché l'ho sentito per la prima volta in gangs of london abbiamo l'onore e io sono emozionato nell'avere qui il mio caro collega e amico alessandro fattori ciao a tutti grazie per la magnifica presentazione anche troppo sinceramente te la meriti tutta però ale cioè noi siamo qua in due però ho nominato il fatto che c'è un co conduttore e dov'è questo co conduttore tu lo vedi tu sai dov'è il co conduttore è una persona che varia di volta in volta e che mi aiuta nella conduzione dell'intervista e che io ritengo adatto al ruolo in questo caso siccome parliamo dell'ingresso di life is a dubber su twitch in una versione un po più social un po più ammodernata e comunque di base parliamo di una rubrica che tratta di doppiaggio ho scelto di portare anche in questo caso un amico che sia esperto del lato social sia un content creator veramente valido e che spero continui a crescere sia una persona che anche essa si sta formando per intraprendere questa carriera direttamente dal mondo di tiktok dal mondo di twitch dal suo mondo creativo abbiamo qui con noi su life is a dubber andrew ave ed eccoci qui ragazzi grazie mille ciao a tutti buonasera buonasera come va bene ma sì siamo tutti siamo tutti qui felici e spero sia una bella live lo sarà saremo carichi saremo energici vedo non è che saremo siamo carichi infatti vedo vedo si vede ma vedo puni che cita un meme della nostra chat telegram tutti gli oscuri segreti noi abbiamo il meme dello scuro segreto praticamente con i punti canale tu riveli un segreto oscuro scurissimo sulla tua vita personale che non riveleresti mai neanche al tuo peggior nemico ovviamente ragazzi ovviamente ragazzi allora riservo la possibilità di non rispondere all'ospite agli oscuri segreti soprattutto se riguardano lavorazioni non ancora annunciate perché vi vorrei ricordare che se violiamo un enda ci fanno un culo così giusto vale è direi allora direi assolutamente quindi io direi di partire proprio con una domanda molto classica rompi ghiaccio io e te ci passiamo tipo due o tre anni se non vado errato come sta essenzialmente abbiamo iniziato quasi più o meno nello stesso periodo forse tu un anno due anni prima credo vorrei chiederti com'è nascere con nascere artisticamente con la passione per questo mestiere e com'è portarlo avanti in un periodo anche un po complicato come questo beh diciamo che quando ho iniziato io per fortuna ancora si riusciva ad assistere qualche volta quando avevi l'occasione e non c'era la pandemia quindi per fortuna riuscivi a girare come volevi incontrarle persone parlarci che dire ho avuto ho avuto tante belle botte di culo io per essere e ne sono consapevole però diciamo che sono anche consapevole del fatto che sono riuscito sono stato capace di saltare su quei treni che magari stavano passando in quel momento no sì e secondo me non è neanche una cosa da tutti perché magari a volte non ritieni giusta la la situazione non non te la senti tante cose e che dire ho iniziato tre anni e mezzo fa circa e appunto anche lì con delle belle botte di culo e non c'è molto da dire sono stato fortunato mi sono impegnato molto a studiato ho iniziato ancora prima di finire gli studi perché volevo mettermi in polla in gioco mettermi in prova vedere se effettivamente cioè non avere solo un giudizio dai miei insegnanti ma avere anche un giudizio esterno da uno che non mi conosce no chi mi sente per la prima volta direttore esatto esatto e quindi quindi mi sono buttato e per fortuna è andata bene per fortuna era morbido buttati che morbido come direbbero nel panetto nei bauli ma più che altro io io te lo chiedo anche perché appunto io spesso e volentieri sia sui nostri social che anche in direct personalmente ricevo domande su ma come si diventa doppiatori come 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 si entra negli studi come come si fa ragazzi il primo passo è studiare esatto essenzialmente studiare mettersi in gioco è tutto lì già tutto lì tra virgolette effettivamente è la è la cosa più più importante soprattutto perché in un periodo come questo è forse essenziale essere ancora più presenti di prima perché col fatto che i turni sono tutti quanti in colonna separata e questo in realtà per certi versi un bene col fatto che le lavorazioni sono molto cranciate sono poche le possibilità di farsi nodare no ti dico perché la colonna separata secondo me positiva perché ascoltando solo te secondo me è più facile rimanere nell'orecchio di un direttore sì ma diciamo che ho avuto rarissime occasioni in cui ero a leggio con un altro e 6 6 più dentro effettivamente ci sei di più te ne accorgi te ne accorgi a prodotto finito ovviamente sì sì però anche quando sei lì e sei con quest'altra persona che magari che ne so anche per dire solo brusio riuscite a c'è questo scambio di battute continuo che è perfetto cioè botta e risposta botta e risposta soprattutto se siete due persone in sintonia sì perché ovviamente può capitare anche il contrario però ti dico le quelle poche occasioni che ho avuto di essere a leggio con un altro che per fortuna conoscevo per me è stato meglio però anche vero che se per dire io devo fare un personaggio che magari è che ne so il protagonista o un personaggio grosso preferisco avere i miei tempi cioè no essere da solo anche per una questione che ne so che può essere la tensione la vergogna tra virgolette che si ha le prime volte no perché le prime volte che si va a leggio le prime volte che si va a leggio ti divora l'ansia completamente questo potrebbe essere interessante da raccontare magari uno dice se non sono a leggio con un altro magari un po meno ansia sì sì ok hai sentito Andrew dire qualcosa che che stai dicendo allora io due cose voglio dire principalmente cogliendo questa discorso questo discorso qua sarebbe interessante secondo me sentire un po ad entrambi perché comunque entrambi fate un po questo mestiere diciamo ale molto più di me diciamo io sono hai avuto hai avuto anche tu la tua prima esperienza quindi puoi rispondere anche tu a questa ho avuto il mio primo esordio diciamo che fra me e ale il professionista e ale ecco a tutti gli effetti come vi siete sentiti quando quando appunto avete avuto il vostro primo provino sia da quando lo avete magari ottenuto e quando poi magari proprio siete avete dovuto dimostrare quello che sapevate fare cedo la parola all'ospite beh allora guarda se vuoi ti racconto proprio come è andata perché non me la dimentico vai piace sentirlo ma io appunto era quando ancora si poteva assistere e tra l'altro a volte ti facevano assistere entrando in sala che è meglio cioè sarebbe la cosa migliore da fare proprio dove c'è il doppiatore che sta doppiando entri dove c'è il doppiatore ti metti di fianco con la tua cuffia stai zitto muto e lo guardi che è come si dovrebbe fare quando vai ad assistere ero con una grande professionista di quello farà il nome che stimo moltissimo e ad un certo punto finisce il turno mezz'ora prima e io avevo già chiesto al direttore se mi voleva sentire ma non c'era mai stata occasione allora finisce il turno mezz'ora prima e lei stava uscendo il direttore dice no 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 rimani dentro che li faccio guarda mi sa che ti ha detto di rimanere dentro fa no 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 era indirizzato a te boom inizia a tremare capito se quando ti dio non te l'aspettavi sì ero lì che ma e niente in realtà poi dopo quando è iniziato ovviamente all'inizio era un po detto dio ho provato a fare come faceva lei che ne so magari la guardavo ovviamente già avevo studiato cioè la guardavo la provavo e poi incidevo e devo dire che non è andata per niente male anzi mi ha detto il direttore mi disse ma lavori già e faccio no il primo provino fa ah ok sembra che stai già lavorando che hai già fatto dei turni ha detto bella bomba molto bene molto bene sì molto bene e niente poi dopo da lì mi hanno dato dei turni quindi è andata così però ecco quel momento in cui mi ha detto no no sei tu sei tu che devi rimanere dentro cioè inizia totale di ansia adesso è il mio momento e il consiglio che do molti che iniziano secondo me è che quando vai a leggio devi pensare ok adesso ti faccio vedere io come si fa però quello è il momento in cui bisogna spaccare esatto quello è il momento in cui devi spaccare quindi devi devi essere devi avere quella grinta no che ti faccia spaccare poi alla fine magari in quel momento ti viene un attimo di ansia però è quell'ansia magari da esame esame di maturità no quella quell'ansia che ti permette poi di di spingere di dare di più certo certo quindi è giusto stare in tensione sì sì infatti infatti ma ci deve essere perché se non ci fosse vuol dire perché a me è stato insegnato per esempio che proprio a leggio una cosa fondamentale è essere sempre in tensione rilassati ma in tensione sì esatto per essere pronti per essere prestanti al doppiaggio quindi è fondamentale questa cosa se non ti perdi delle cose che invece ci devono essere invece cristiano allora neanche mi ricorderò sì neanche mi scorderò mai il mio primo provino perché io in realtà quella quella mattina ero lì per assistere essenzialmente vado a ritirare il badge per assistere e las proprio la segretaria sentendomi parlare mi dice tu hai una bella proprietà di linguaggio il provino con noi lo hai già fatto e no in realtà no credo che sia tipo la seconda volta che assisto con voi e mi dice guarda c'è il il direttore che in questo momento è un attimo qui a finire delle distribuzioni però se deve se se tu devi assistere poi te lo mando giù io vado ad assistere c'era un altro direttore che doveva fare il turno quel giorno mi vedo arrivare il direttore che mi era stato menzionato prima che dice al direttore che doveva fare il turno seguitemi un po' complicato ragazzi più che altro perché non voglio fare i nomi dice no guarda mi ha mandato giù la segretaria perché mi ha detto che ha sentito un ragazzo con una voce straordinaria e dovevo fargli assolutamente il provino e si riferiva a me al che poi mi guarda mi guardano tutti mi dico te la senti io volevo dire no in realtà no e poi il direttore che doveva farmi provino per aiutarmi a stemparare la tensione mi fa se non te la senti non preoccuparti ma via dalle balle al che scoppiamo a ridere così si me la sento dai lo faccio vado un attimo a sciacquarmi la faccia faccio il provino su una scena molto carica di tensione il direttore non mi dice letteralmente niente poi a fine provino mi fa l'hai fatta bene ora voglio che me la fai meglio a fine provino mi chiede numero dati grafici e tipo il giorno dopo vengo contattato per fare un turno buono mi pare buono insomma avete comunque entrambi avuto un inizio lo chiamo trauma carico è stato un trauma sinceramente ma tanto che io ancora oggi mi chiedo se magari in quel provino potevo potevo fare meglio si può fare sempre meglio alla grande alla grande no dico se potevo fare meglio in quel momento perché sicuramente se io facessi quel provino adesso si lo farei meglio su questo ovvio anche in quello sai ci sono tanti fattori comunque tanti fattori esatto c'erano tanti alessandro che che incidono sulla tua performance al momento hai capito tanto vedo un po di gente che scrive in chat allora vorrei che leggeste anche se non una domanda dedicato al mitico alessandro fortunato hai detto si non ho capito cosa gang come e cos'è gang se non mi ricordo no è è un anime di cui lui faceva l'assistente praticamente ogni due secondi c'era il mio personaggio diceva quindi can quindi canon è stato l'assistente al doppiaggio di quell'anima ok bottiglia hai detto fazzoletto hai detto cellulare hai detto c'è tutto così il mio personaggio era sordo dice caro si diventa doppiatore innanzitutto se sai respirare se non sai respirare sei fuori ciccio poi devi sapere bene ma per il messo la base questo sia un po per il meme questo ma ora andiamo un attimo sulla ciccia proprio sulla ciccia cicciosa guarda l'ultima volta che ci siamo visti al massimo è un po di panzonella da birra che vi ricordi però poi dopo le feste io per io preso quattro chili io preso quattro chili ecco parlando di parlando di chili e parlando invece di personaggio che di personaggi di in generale che ci tengono invece a restare in forma con i loro chili io se non vado errato tu hai partecipato agli ovvi di così parloro anch'isci beh giusto sì ok in generale gioio è una serie molto apprezzata gli spin off molto apprezzati anch'essi e sono stati il primo prodotto di gioio ad arrivare doppiato in italiano sì ora non mi non so quanto tu sia fan di gioio di base l'hai apprezzato ti è piaciuto lavorarci com'è stato da fan io sono arrivato fino alla quarta all'inizio della quarta poi mi sono fermato perché mi ha rotto non non mi stava piacendo quindi mi sono fermato tra l'altro la quarta è proprio quella ambientata subito dopo gli avvi di di rohan o subito prima non mi ricordo mi sa che c'è prima la quarta e credo che sia la quarta la quarta e amorio ciò dove appunto è ambientato anche così parloro anch'isci beh esatto cioè rohan è un personaggio della quarta sì esattamente esattamente e vabbè com'è stato lavorarci è stato una figata perché il personaggio come dire ci sono entrato subito perché io facendo palestra come dire mi sono immedesimato subito poi vabbè lui diventa super malato di palestra ma più impazzisce vuole sempre diventare più grosso poi alla fine si scopre che è impossessato scusate spoiler non volevo però è stato veramente figo poi tra l'altro era il primo turno che facevo con quel direttore e quando sono andato avevo avevo ansia perché sapevo di essere con lui ma tipo avevo sentito storie che con lui venivi massacrato o cose così invece non è stato vero cioè io sono andato lì ci siamo fatti delle risate e anzi mi ha insegnato tante cose quindi è stato un bellissimo turno un bellissimo personaggio secondo me difficile doppiare giorgio comunque dipende dipende dai personaggi il mio non è stato chissà quanto difficile perché è uno che non ha non è molto espressivo è sempre incazzato vuole sempre migliorare quindi però ovviamente ci sono quelli più difficili in giorgio quelli super sopra le linee esatto esatto non ti diverti a farli non vengono tanto bene secondo me sì sono molto difficili secondo me soprattutto perché in generale ridare in generale ridare porca porca ridare in ciò che viene fatto in originale in giapponese già di base è complicato perché hanno tutti i loro suoni particolari le loro cadenze particolari quindi è complicato su giojo ancora di più perché è proprio esagerato oltre all'esagerato esatto esatto non ti devi far portare fuori dal giapponese sì perché loro sono molto sopra loro sono troppo sopra non possiamo fare la stessa cosa qua quindi non ti devi far portare fuori dal giapponese tutto lì così invece una curiosità tu cosa preferisci di base doppiare gli anime ti piacciono questo sì ma hai preferenze per altri prodotti c'è un prodotto in particolare non anime che ti è piaciuto fare qualcosa a cui sei legato ma sai non ho preferenze su cosa doppiare o no mi piace un sacco doppiare anime ma ci sono stati periodi tipo di recente che ne ho fatti a pizzeffe diciamo basta ne posso più e mi piace fare un po tutto in realtà quindi adoro il mestiere quindi figurati giusto io a me quando mi danno i turni sono felicissimo non vedo l'ora cioè io io non vedo l'ora che arrivi lunedì perché mi possono scrivere per andare a lavorare cioè ragazzi è bellissima sta cosa quando fai il lavoro che ti piace esatto esatto e una cosa a cui sono molto legato è un film che è andato al cinema quest'anno che è passato quest'anno che è passato che si chiama minari e ci sono molto legato perché credo di essere che dopo quei turni lì credo di essere proprio cambiato a livello professionale cioè è cambiato il mio modo di vedere uno lavoro e due come come mi comporto quando sto lavorando come come lavoro effettivamente proprio mi ha rigirato quella direttrice via mi ha rigirato e finora da lì in poi da quando ho imparato diciamo quel metodo non ho mai avuto problemi quindi sono molto legato a quel prodotto soprattutto perché mentre lo stavo facendo pensavo che schifo sta venendo una merda cioè qua io non vedevo l'ora di scappare perché mi stavano veramente tra l'altro se ho capito a film ti riferisci se non sbaglio la tua sparring in quel film era l'area latini giusto sì già posso capire la tensione però te la sei cavata egregiamente secondo me te la sei cavata egregiamente ero in studio con dei mostri quindi cioè io io li guardavo dicevo ma che cazzo c'entro cioè cosa c'entro qui con loro ti ripeto secondo me te la sei cavata veramente egregiamente ma appunto dicevo che mentre stavo facendo dicevo qua ragazzi sta venendo una merda mi vergognerò un sacco così invece quando mi sono sentito ho detto però tutte le cose che mi faceva direttrici erano vere ovvero ma no nel senso che mi ha massacrato molto con la direttrice tanto e sai quando sei lì nel momento dici c'è stata una frase che ho dovuto incidere 50 volte e qua ogni volta che iniziavo a dirla mi fermava e mi diceva no così no e io non esco più qua come faccio deve essere è finita io torno a casa voglio andare via vuoi andare in giappone come vuoi andare in giappone dove il sole sorgerà e niente quindi alla fine è un mestiere in cui bisogna prepararsi e studiare tanto ma essere pronti è importante anche farlo a tutti gli effetti perché facendolo impari tanto quanto pare dalle dalle tue parole nel senso sì 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 è proprio un mestiere in cui serve comunque poi l'esperienza cioè tanto studio ma poi ti serve farlo effettivamente ma io penso un po che sia un po così in tutti i mestieri mestieri che si possono chiamare proprio professioni no cioè per dire immagino un medico che va per la prima volta ad operare una persona cioè lì sei effettivamente per la prima volta con una persona vera no cioè quindi certo la pratica ovviamente fa la professione vera e propria finché non pratichi fai fatica sì soprattutto poi nel doppiaggio e comunque sia questa figura del direttore di doppiaggio che ti fa un po da maestro in quel momento no ti ti guida nel nel tuo nel tuo doppiaggio di quel momento però ti lascia qualcosa poi come abbiamo sentito sì che ti accresce per i tuoi lavori futuri insomma assolutamente tutti i direttori ti lasciano qualcosa e devi devi ricordarti tutto spesso anche prendere appunti secondo me è una buona idea dopo un turno cioè provi a ricordare quello che ti è stato detto e sì io personalmente non è che ho mai preso appunti scritti io dopo un turno ho sempre cercato di tenere tutto a mente e soprattutto cercare di attivare quel meccanismo del mio cervello dove dice ok qui questa frase come come l'altra volta è la stessa situazione quindi siccome quel direttore mi ha detto così e provo a far provo a proporre questa cosa qui anche con quest'altro direttore perché ovviamente c'è direttore direttore certo e e quindi ho sempre cercato di stimolare quella parte quella parte lì del mio cervello dove dice ok qua deve partire questo qua deve succedere questo qua è così quindi la devo dire in questo modo quindi no e lì è tutta pratica come sempre è un lavoro che diciamo lo impari facendolo esatto o lo affini lo affini facendolo ma ecco tra l'altro a proposito di affinare di affilare imparare oggi siamo freschi di un annuncio che diciamo riguarda sia me che alessandro ovvero non vedeva l'ora sì che non vedevo l'ora di amato video ha pubblicato il cast completo di assassination classroom nel quale tu doppi rioma terasaca il bullo della terza e che novità faccio sempre i bullo sanemi ora fai il bullo della situazione invece sono una persona tranquillissima no è un pezzo di pane gli voglio tanto bene dalle una volta mi hanno offerto uno spritz perché ero squattrinato eh sono la voce da bullo però è un cuore tenere no volevo volevo semplicemente chiederti visto anche quello che è in questo momento il progetto di amato che è un investimento anche importante sul doppiaggio italiano sì oltre a chiederti quella che è stata la tua esperienza con rioma che non so se è finita perché mi è perso di capire nella live che abbiamo fatto con orlando eh che la seconda stagione sia ancora in corso io ho finito cioè io la mia lavorazione class l'ho finita io pure io ho fatto ciba il mio ultimo turno tre settimane fa può essere quattro settimane un mese fa una roba del genere comunque ho concluso ben prima delle vacanze natalizie e volevo chiederti appunto invece come era stato per te doppiare questa serie perché io ci sono molto legato e ora voglio capire da voi altri dagli altri colleghi che che impressionano avuto della serie certo io in realtà lo conoscevo solo di nome dei miei amici lo guardavano e me ne parlavano non ho mai avuto voglia di iniziarlo però credo che ormai sia arrivato il caso e che dire è stata un po una cosa random diciamo perché io col direttore non ci avevo mai lavorato e in realtà avevo scoperto pochi giorni prima che lui facesse il direttore io lo conosco lo conosco possiamo dire il nome del direttore class si è pubblico è luca ghignone luca ghignone io lo conoscevo ci ho parlato mille volte ma non sapevo che facesse il direttore l'ho scoperto da lì a pochi giorni prima di effettivamente fare il provino con lui e niente è capitato che sapevo che c'era questa serie che stavano doppiando detto ma chissà che non riesco ad infilarmi non ho fatto un po la faccia da culo chiesto alla capa dello studio dove lo stavano facendo se c'era occasione di farsi sentire da luca e mi ha detto sì sì guarda passa oggi che magari se ha tempo di sente sono andato e stavano già facendo che ne so il quindicesimo episodio episodio ho detto quindi ma se riesce a infilarmi farò dei brusi e niente mi prova su di lui mi prova su terra sacca mi fa partire la scena io la guardo non provo non faccio niente e poi me la rimanda io ci provo sopra e mi fa ok a posto guarda non ho bisogno di sentire altro ma andata male sono uscito mi fa sei bravissimo il ruolo è tuo ma come pensavo di darlo a qualcun altro ma secondo me non era adatto quindi siccome ci stai meglio tu niente così sì è stato assurdo letteralmente così come sento benvenuto sony mcli gabrile donalato ciao gab gab ci sta follow ci sta seguendo gab è un altro collega qui vogliamo tanto bene un amico nostro grande gab che spero presto di avere anche lui su sul canale grande gab tvb che vogliamo tanto bene ghignone il grande irreprensibile ghignone non sapevo facesse anche il direttore io non lo sapevo ragazzi ma veramente non lo sapevi usate come veramente non lo sapevi lui ha fatto non sapevo che dirigesse lui ha fatto lo scambas ha fatto è diretto i cavalieri dello zodiaco dello scambas per dirti che ti devo dire che mi devi dire ti dirò di più di più ok per il meme ragazzi ogni tanto le mie battute devono essere infilate da da qualche parte vedo lo sguardo di disapprovazione totale di andrew no no per me puoi chiudere la live in questo ma io lo stimo tantissimo luca ragazzi io penso che io penso che il turno con luca sia uno dei turni da cui ho imparato di più nella mia vita personalmente sì perché lui ci tiene un sacco a parte che ci tiene un sacco ma si mette nell'ottica di questo turno deve rappresentare come tutti i turni devono rappresentare una crescita per chi sta incidendo tanto che per dirti questa cosa la posso dire lì perdonate cristiano mi prego lo posso dire tranquillamente io avevo un computo righe da fare in un turno e quel computo righe non l'ho chiuso in un turno solo avrei comunque dovuto fare due turni per fare tutta quanta la serie tanto che appunto luca mi disse tu non ti devi preoccupare perché due turni l'avresti dovuti fare comunque e anche se fosse andato più veloce avremmo fatto al massimo 20 righe in più e tu non avresti imparato niente quindi meglio che sia andato più lento e che ha fatto meno cose e che ci siamo soffermati di più esatto ma stessa cosa diceva me quando ero lì e diciamo che dopo un po che hai un personaggio magari soprattutto negli anime la guardi una volta e poi ti butti subito no cioè dopo un po che un personaggio hai talmente tanta finita che le puoi fare anche subito sì sì e lui mi ha detto guarda non ti sentire in obbligo di farmele subito perché non c'è nessuna fretta puoi prenderti tutti i tempi che voglio detto vada vabbè c'è nel senso lo so sono tranquillo non ho fretta quindi non ti preoccupare cioè lo ritengo un ritengo il miglior modo di lavorare cioè non mettere fretta all'attore prendersi il tempo giusto per fare le battute in un mondo dove spesso e volentieri si va verso il crunch del del doppiaggio prendersi i propri tempi è il modo migliore per garantire un'ottima qualità del lavoro ecco mettiamo questo puntino su questa i voglio fare una domanda allora è endor dimmi voglio fare una domanda da persona esterna appunto questa cosa perché spesso mi viene descritto proprio questo ambiente sempre più veloce sempre più frenetico e sempre più appunto di la guardi la provi la fai punto subito quindi sentire queste cose da voi che ve la siete presa un po più con calma mi mette un attimo una domanda quindi effettivamente è così o cioè nel senso è così nel senso che la devi fare alla prima botta o comunque c'è poco tempo veramente o c'è la possibilità comunque cioè c'è l'umanità di tra virgolette di dire ho sbagliato dal direttore preso alla fine non dipende neanche da lui perché poverino a volte i direttori hanno delle scadenze disumane a cui devono sottostare non dipende neanche da luce a loro non vorrebbero metterti fretta ma purtroppo però ecco invece se non ci sono le scadenze puoi prendertela con calma di solito c'è almeno per come la sto lavorando io adesso sia un personaggio nuovo i primi anelli me li faccio con calma poi quando parto quando capisco come il personaggio ok posso fare posso pensare di fare o la guardo una volta ok facile va andiamo dipende cioè non c'è una vera risposta a questa domanda ok può essere può essere io ho avuto occasioni dove direttore come mi è successo anche per minari con la direttrice diciamo che non è che mi mettesse pressione però diceva siccome mi faceva rifare le scene quattro cinque volte perché come le voleva lei non uscivano mi dicevo che c'è cerchiamo di darci una mossa c'è nel senso cerca di capirmi più velocemente no si intendiamo c'è più al volo ma a posteriori posso dire che secondo me lo faceva anche per insegnarmi cioè soprattutto per insegnarmi anche perché quella direttrice mi ha detto che io non so recitare dopo il primo turno che ho fatto con lei ok mi ha chiamato per un protagonista cinema mi dice sì sì io sono uscito prima volta con lei dico guarda spero sia andata bene cioè com'è andata tutto ok fa sì 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 è andata bene però non sai recitare come che senso che ti ha chiamato e quindi a posteriori invece mi disse quando poi è uscito il film al cinema e mi ricordo che ero con lei e le dissi io ti voglio ringraziare perché mi ha dato una possibilità che mi ha dato la possibilità di realizzare un mio grande sogno lei mi ha detto guarda se tu sei lì vuol dire che tu sei lì no certo e quindi cioè lei diciamo c'è andata giù pesante con me ma voleva tirare fuori il meglio ecco esatto esatto quindi che dire per la una varia ovviamente se sei più se sei veloce come dire sei sveglio capisci subito la situazione è tanto meglio assolutamente certo certo però non ti devi far fregare che se magari che ne so ti fai dieci turni tutti veloci dove ok hai imparato la velocità vado 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 poi arriva il turno dove invece hai più tempo e invece anche lì vai veloce e magari le cose ti vengono peggio di come potrebbero venire dopo devi anche saper rallentare devi anche no devi essere modellabile in tutti in tutti i modi sono completamente d'accordo ma anche soprattutto per il fatto che essendo questo letteralmente un lavoro di bottega quando hai la possibilità di fare il lavoro di fino di rifinire quella sfumatura quell'intenzione perché non farlo certo tra l'altro come dice sempre it's bot word c'è un commento saggissimo e bellissimo massimo rispetto per l'umiltà di ogni persona in questo ambito dai tecnici ai direttori senza il contributo per quanto piccolo possa essere se più singolarmente non ci sarebbero prodotti che hanno segnato e stanno continuando a segnare la nostra vita è così ragazzi è una macchina il doppiaggio cioè noi voi voi sentite il risultato finale ma nel momento in cui noi entriamo in sala già di base ci sono tre persone c'è l'attore poi c'è il direttore c'è un fonico e c'è anche un assistente al doppiaggio spesso molto spesso poi bisogna passare agli encoder poi devono fare il sound check se il sound check non va bene si controlla se magari perché la battuta è sporca se la battuta è sporca viene richiamato il doppiatore a fare dei riff in un casino in un casino e se tutti non lavorassero bene in squadra non avreste un prodotto fatto bene quindi io quota al cento per cento il commento di spot word buonasera nei conti come stai stiamo stiamo facendo un po di domandina il signor alessandro fattori anzi se la chatta qualche domanda da fare io la tengo d'occhio gliela faccio anche se prima una cosa da chiedere io al signor al signor fattori ce l'avrei allora signora signor fattori reggio allora io e lei condividiamo una passione che però lei ultimamente ha un po accantonato ripreso league of legends che l'ha detto che l'ha detto il fatto che non giochiamo più insieme è perché io sto arrancando ma l'hai detto hai iniziato le classificate di questa season lascia stare ho già bestemmiato perché gioca con me dice gab in realtà il mid in realtà è il mid più scarso di sempre dice peccal non è vero dai con xerat e mi sono sempre trovato bene in colui ma non è di league che voglio parlare dai e raio tu hai fatto amici andare a vedere la mia match history dove oggi ho fatto cinque game ok ne ho persi quattro in quei quattro ero sempre fin dato io e vaffanculo non c'è storia ragazzi cioè in una addirittura hanno fatto sul render e io non avevo messo niente potevano vincere benissimo solo che la gente che ci vuoi fare io però volevo parlare di una cosa che tu hai fatto sempre per riot ma non il league of legends ovvero valorant yes allora tolta la questione su cui comunque vorrei soffermarmi sui videogiochi cioè quando si va a doppiare un videogioco com'è l'esperienza totalmente diversa rispetto a quando doppi una serie tv un cartone ma di base com'è lavorare per un colosso come riot in generale com'è lavorare per i colossi e soprattutto quanta pressione ti mettono addosso a monte della lavorazione quando si tratta di il mi raccomando stato cheat sì ma diciamo che per ogni ogni cosa che vale a fare non solo per i colossi però in qualsiasi produzione che tu vai a lavorare non puoi dire niente assolutamente devi stare zitto non puoi fare spoiler poi ovviamente a maggior ragione per i colossi perché comunque ovviamente hanno più seguito e se li appena ti esce qualcosina va lo sanno tutti quindi devi stare attento e com'è lavorare è una figata perché quando poi nel contratto magari vedi riot games è quando nel contratto vedi un nome grosso dice dai che io quando l'ho visto detto alle che mi fanno fare league of legends e tra l'altro c'è ero casatissimo detto bella di studi mi dicono che sono il nuovo pg di lol bella contando un po anche periodo di uscita probabilmente contemporaneamente stavano anche facendo action e non lo so perché io l'ho fatto a inizio dicembre dell'anno scorso lo dio no forse no ecco sei inizio dicembre dell'anno scorso dicembre 2020 giusto dicembre 2000 ecco no in realtà in quel periodo stavano facendo viego quindi forse l'hai fatto in contemporanea con ezio sì probabile probabile il grande irreprensibile il grande ezio viego viego abbatantuono ha fatto un personaggio veramente figo gli andate proprio bene su ezio ha fatto un bel personaggio è un personaggio veramente rotto chissà quanti infamati quello tra l'altro è un personaggio importante a livello di lore quindi ogni volta che lo senti è il re in rovina è il cavolo di re in rovina su cui tutti abbiamo fantasticato per anni infatti bomba sono stra felice per lui e l'ha fatto da dio i miei più sinceri complimenti come sempre salutiamo la nostra elli che ci deve lasciare perché la connessione non regge un cuoricino per elli c'è un cuoricino per elli tutti invece come in generale doppiare i videogiochi cioè come ti trovi per me è bellissimo da videogiocatore posso dire di essere sempre felicissimo di andare a doppiare i videogiochi perché soprattutto perché dal punto di vista artistico sei più libero perché non devi stare sotto labiale cose così quindi proprio veramente puoi sbizzarrierti e bellissimo non c'è molto da dire io sono veramente stra felice ogni volta soprattutto quando faccio personaggi che ritengo molto figli ne ho fatto uno ultimamente su call of duty e io da ex cantante growl fare un personaggio tutto in growl come è stato è stato veramente figo state cinque ore pesanti ma liberatoria liberatoria ho detto finalmente posso usare il mio growl signora andrew la vedo perplesso la vedo la vedo perso nell'universo no stavo mandando il link su discord della live e lo zelda lo hai mandato mamma mia possiamo chiudere questa live per favore lo mandiamo via cristiana è la mia live no che non puoi piuttosto invece di mandare link in giro io so che lei è un'altra cosa sicuramente da chiedere al signor factor fammi capire gliela chieda no per esempio ti è piaciuto doppiare invece il personaggio di demon slayer uno dei pilastri insomma zanemi zanemi esatto io con i nomi ragazzi io non conoscevo la serie quindi quando è successo e quando poi ho scoperto il seguito ok ok è successo tutto dopo certo e ho detto cazzo sì è un bel personaggio lui figo nel senso figo molto figo ma poi non mi aspettavo neanche di farlo perché anche lì era il mio primo turno con quel direttore e ho detto vabbè ma chiamato per fare i brusi chissà cosa sarà invece sono arrivato ho detto avevo tipo metà turno tutto per me ha detto ma sta a vedere e niente mi ha dato un personaggio anzi più di uno quindi che dire la come dire la felicità è arrivata dopo perché ho scoperto dopo tutto il seguito che ha demon slayer e in realtà piace anche a me soprattutto il film mi è piaciuto tantissimo è film di animazione tanta roba ecco una domanda per il film quanto ti hanno rotto l'anima in messaggio privato quando esce il film di demon slayer madonna infinito ragazzi troppo quando esce quando esce quando esce ma poi che ne so magari diciamo neanche tanto in realtà però quei pochi che me lo chiedevano io volevo dire ma perché lo chiede a me che faccio un personaggio che si vedrà chissà tra quanto cioè nel film appare una volta e dice sì esatto nel film comunque dice poco è un personaggio che nel film è letteralmente una battuta credo sì sì è una battuta quella della present della presentazione no alla fine nel finale del film diciamo che i pilastri ricevono una notizia i pilastri ricevono una notizia alla fine del film ah è nel film perché poi nella serie si vedono i pilastri mi sembra sì alla fine della serie io dico che sterminerò tutti quei maledetti demoni basta ce la dici come se fossi proprio san emi in questo momento non vuoi no grazie tranquillo tranquillo no te lo chiedevo essenzialmente perché praticamente tutte le per tutti il tutto il caso di demon slayer a cui l'abbiamo chiesto ci ha confermato che gliel'hanno chiesto a iosa l'hanno chiesto per dirti alla greca l'hanno chiesto a mosè l'hanno chiesto a novara alla greca capirei la greca ha avuto un bel da fare in quel film mamma mia difficilissimo dire che mi ha fatto venire i brividi ascoltando il rengoku che è stato bellissimo ne parlavo ieri in una mia live appunto proprio dire dire un goco perché l'altro ieri ho finito il il gioco no quindi abbiamo visto tutta la scena praticamente che è del film del combattimento e parlavo proprio di quanto deve essere stato difficile doppiare rengoku perché è un personaggio estremamente inespressivo a livello facciale e poi è un è un personaggio che usa comunque dei termini particolari è molto esatto è molto difficile rengoku sia in ciò che dice che come lo dice quindi deve essere stata una bella sfida per andrea però tanta roba però tanta roba tanta roba veramente no e soprattutto è un film che tra l'altro ora andrà al cinema finalmente avendo il passaggio cinematografico che merita prossimo weekend se non vado errato al prossimo weekend mi sa il prossimo weekend non questa settimana ma la prossima dovrebbe essere così tra l'altro appunto un film che per colpa del cove ha avuto numerosi rimandi è arrivato su prime video in esclusiva prima io guardandolo su prime ho pensato questo devo andare al cinema così come il film di evangelion per me il film di evangelion era da cinema ma stupendo a livello veramente di animazione top quality infatti volevo anche chiederti per te l'animazione al cinema può avere un futuro cioè può essere può essere supportata ancora dal pubblico secondo me sì perché comunque diciamo che sono solo tra virgolette gli ultimi anni in cui sta un po' esplodendo questa cosa non so lo vedo solo io che mi flash si non l'ho capito si 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 sembra che dj ponti dj factor dark l'ho visto adesso dj factor dark ba dicevo secondo me solo dagli ultimi anni che sta un po' esplodendo sta cosa in italia cioè dagli ultimi degli anima cinema cinema in generale l'animazione cioè comunque sì anch'io sono cresciuto con dragon ball un sacco di anime giapponesi e diciamo i veri fan proprio sfegatati secondo me solo negli ultimi anni poi magari sto dicendo una cacchiata nell'ultimo periodo c'è stato un grosso boom sia per quanto riguarda gli anime che i manga soprattutto dal fatto che siamo stati chiusi in casa quindi le persone tendevano a leggere o guardare più anime o serie tv insomma comunque c'è stato un grande boom dovuto al covito però anche a livello di anime soprattutto per quelli che sono usciti sì sì certo la richiesta e quindi secondo me così il futuro ci può essere benissimo io lo spero più che altro anche da soprattutto da fruitore ecco già qua è più il fruitore che il che il doppiatore che lo spera ma perché semplicemente come dicono ecco appunto in chat come dice cuny il cinema è sempre un'esperienza molto diversa su tv piattaforma ma c'hai tutto l'impianto e poi di base se un film è pensato per andare al cinema stai pur certo che l'esperienza sarà diversa io non so quali non so quanti di abbiano visto promera al cinema quello di studio trigger è una figata incredibile al cinema ma per esempio io ricordo io non sono un grande amante del cinema nel senso mi piace però ci vado poco ma ricordo che quando vedi end game sul grande schermo piuttosto che vederlo è assolutamente assolutamente vederlo a casa avrebbe fatto un altro effetto voglio dire avengers uniti quella scena è capito è proprio quella è proprio quella a cui mi riferisco io avevo mio padre io avevo mio padre accanto 60 anni che lui da pischello leggeva i fumetti marvel è un'altra poi era era più un hype lui di me no no io ho guardato due volte al cinema perché infiniti world pur io l'ho visto credo in totale quattro volte perché l'ho visto una volta cinema con mio padre una volta cinema con dei miei amici una volta insieme alla mia ex a casa di amici nostri per prepararci la visione di end game e poi siccome io dovevo partire il giorno dopo le proprio il giorno in cui iniziava in game dovevo partire per il comic con di napoli andai all'anteprima notturna dove c'era la maratona mettava andavo l'infinity war dalle nove a mezzanotte tipo e subito dopo in game bellissimo ma infatti io per dirti ho poi una certa durante infiniti war mi sono fatto una pennella ma non per ma non perché fosse noioso non neanche perché l'avessi già visto troppe volte ma semplicemente perché avevo bisogno di dormire altrimenti poi rischiavo di se ho detto preferisco addormentarmi durante infiniti war che addormentarmi l'hai già visto certo certo sì vabbè ovviamente avevo tipo due bottiglie di coca cola eravamo in periodo prepandemico e ragazzi ovviamente quindi tutt'altra roba tutt'altro periodo tutt'altra tranquillità il 2019 quando il mondo era ancora un posto normale possiamo dire secondo me sì sì che tra l'altro domanda vai entro il covid appunto ha avuto tante ripercussioni tanti tanti problemi in tutto e anche nel doppiaggio quindi tipo come state vivendo questa cosa con il doppiaggio ma io sono totalmente sincero io lavoro molto di più ok non so se sia dovuto al covid o da tante cose però io sto lavorando molto di più ma molto non so perché cioè non te lo so spiegare magari si è solo esploso in questo momento e può anche darsi per carità può darsi o forse magari hanno c'è stato tipo un ammasso di prodotti che sono usciti tutti in questo periodo in questi sei mesi che ne so e si vede che non lo so però sto lavorando molto di più perché io per dirti dal canto mio ho visto vivendo l'esperienza completamente opposta cioè io da quando è arrivato perché essendo io avendo le trentino iniziato quasi il contemporanea con lo scoppio della pandemia ho vissuto il blocco totale delle 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 possibilità di fare provini di farmi sentire perché per esempio alessandra è già nel mondo cioè era già nel alessandra alessandra fattora abbiamo alessandra fattora alessandro alessandro era già nel mondo quindi magari è stato meno incisivo su di lui il covid no per per cristiano magari non poter assistere a volte mi chiedo veramente come quelli che vogliono iniziare adesso eh me lo chiedo anch'io in realtà lo sai Ale perché te lo racconto quasi ogni giorno com'è la mia vita è che non voglio cioè purtroppo non voglio buttare giù nessuno però effettivamente cioè con quali cioè non hai neanche lo strumento purtroppo non hai la possibilità è difficile da 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 aspirante la mia paura più grande in questo momento è che già c'era una sorta di chiusura eh adesso è ancora più chiuso e ho paura che col passare della pandemia questa cosa venga diciamo eh mantenuta capito io in realtà eh sono speranzoso perché secondo me nel momento in cui finirà la pandemia saranno rimaste solo le persone che veramente ci vogliono provare a fare questo lavoro è vero anche questo sì è vero secondo me chi voleva provare questo magari come strada secondaria come ma sì ci provo sta già mollando sì sì certo sì sicuramente ma chiunque provi così come hai detto tu cioè come strada secondaria io in questo momento ho preso ho preso casa ho preso casa in affitto a Milano diciamo che il mio progetto è serio quindi poi appunto con la soddisfazione dell'arrivo dei primi ruoli magari e dico magari qualcosa poco alla volta la si riesce a costruire ti spero piuttosto c'è una domanda interessante nel nostro it's bot world che lo vedo molto sul pezzo e mi fa piacere questa cosa a proposito di questo secondo voi l'industria del doppiaggio sta subendo una saturazione di doppiatori vista la situazione odierna lavorare per diventare doppiatori sta diventando sempre più difficile per me la risposta è sì sì per me la c'è stato c'è stata una gran pubblicizzazione del doppiatori sono diventati più famosi se ne parla di più in molti e quindi è normale che uno si sveglia lo vede pensa che sia una gran figata che lo è certo e dica ok voglio studiare per farlo voglio e purtroppo ci sono molti essendo che ci sono anche più scuole più corsi più cose così che che una volta che rispetto una volta è ovvio che c'è una saturazione ma secondo me è perché diciamo che ai corsi o alle scuole così spesso e volentieri prendono chiunque certo invece secondo me se vuoi fare una cosa fatta bene dovresti fare dei provini il problema che non ci penso se uno poverino non è portato non gli puoi dire ok continua a studiare continua a darmi dei soldi per i corsi e cioè non può non è corretto neanche nei suoi confronti il problema è che questa cosa non avviene però purtroppo ovviamente i soldi fanno comodo certo e tutti quasi non dico tutti che fanno così però spesso e volentieri purtroppo fanno così certo purtroppo sì è una realtà è anche per questo che c'è una saturazione è anche per questo che prima della pandemia stavano chiudendo perché ad assistere ci andavano tutti allora diciamo che questa cosa la capisco sotto un certo punto di vista dei degli studi appunto che chiudano per la quantità di richieste anche perché comunque è un ambiente lavorativo e non è giusto che le persone che sono lì per lavorare vengano disturbate da da tutto questo via vai di persone no anche perché poi ci sono persone persone non tutti sanno stare in quell'ambiente non tutti sono educati gente che non stava zitta un secondo ritornando all'esempio del medico se uno che vuole fare l'aspirante medico mi sta dietro mentre io sto operando e continua a parlare guarda io io ho un collega che entrambi conosciamo bene che mi ha letteralmente detto io odio chiunque assista tranne te perché tu sei l'unico che ho incontrato che mai che sta zitto no è fondamentale poi in un posto dove si registra così mi chiudevo nel mio angolino e guardavo una volta un direttore proprio mi fece oh cristian sveglia stai bene perché non stavo zitto non parlavo ero immobile sembravo morto ma è giusto così secondo me tu vai ad assistere giustamente hai rispetto che altro gli studi ti mettono nella condizione di poter imparare senza pagare guardando i professionisti all'opera e se c'è tempo puoi pure fare un provino abbia almeno la decenza di non disturbare una lavorazione anche perché voglio dire nel momento in cui tu sei lì loro stanno lavorando vogliono devo non è che vogliono devono portare a casa il turno io ogni volta che andavo pensavo per me come andare a lezione all'università cioè non è che lezione all'università ti fai cazzi tuoi parli io mi ricordo cioè però assi l'acqua che magari ti viene sete ti porti una bottiglietta d'acqua per carità ma io mi ricordo io ho visto una volta che mangiava mentre assisteva tipo io ero lì volevo fargli ma che cazzo fai no oppure a me ogni due secondi tipo una volta ero con uno e ogni due secondi mi diceva ma quello lì è quello che fa ma quello hai sentito come l'ha detta ma secondo me se la diceva così oh oh e io a un certo punto ho detto oh basta cioè scusa basta sono qui per imparare puoi chiudere il becco scusa ovviamente immagino che questa persona non abbia sfondato per ovvi motivi non lo so non lo so non ricordo neanche sinceramente più che altro perché a me è venuto in mente che io ho assistito anche alla all'inastrimento delle misure di sicurezza da parte di uno studio anch'io perché mi sa che parliamo dello stesso episodio perché una volta andò ad assistere un ragazzo che penso bene di fare una storia su instagram taggando la cosa non è la stessa situazione però anche io sta storia taggando lo studio mentre riprendeva lo schermo il doppiatore al lavoro ma tu sei un coglione tu sei un pazzo ma tu sei un coglione cioè bisogna essere bisogna essere veramente deficienti cioè come come ti viene in mente ma poi soprattutto allora passi allora il già livello di genio lo hai raggiunto con la storia su instagram ma taggando pure lo studio così vedono che tu magari mi ricondividono magari mi notano così io esatto ci vorrebbero essere in testa del cui prima di entrare c'è il loop in channel che dice l'open channel il cambio generazionale ci dovrà essere per forza quindi siamo speranzosi tutti noi emergenzi emergenti emergenti ma per carità non volevo appunto io come no no ma tu sei realista tu sei giusto non volano ma tra le ruote di nessuno ma purtroppo io sinceramente per come vedo la situazione come i fatti sono fatti non è quello assolutamente se è così è così stavo dicendo appunto che da una parte lo capisco al di là del covid che giusta è giustissimo perché nel senso il fatto che gli studi di doppiaggio si chiudano un po lo capisco da una parte perché appunto c'è tanto c'è tanto tante persone che dicono io voglio fare doppiatore e magari non hanno nemmeno studiato e vanno ad assistere cioè appunto come abbiamo come abbiamo sentito non ci sono ci sono persone persone dall'altra parte appunto come dice l'open ci deve essere un cambio generazionale secondo me e questi fattori qui impediscono magari persone che si impegnano e cercano di fare della propria vita cioè di questo mestiere la propria vita non gli permettono di avere le possibilità che magari le stesse persone che in quel momento lavorano nello studio di doppiaggio hanno avuto a loro tempo capite e quindi è un problema questo perché come fai a capire chi effettivamente ha la possibilità di fare questo mestiere e chi no secondo me secondo me a parte rarissimi casi nel momento in cui tu inizi a fare i provini un bravo direttore si accorge se c'è qualcosa su cui si può lavorare il problema è arrivarci a fare il provino in questo momento capisci ah beh sì sì quello sì sto parlando proprio dell'entrare nello studio di doppiaggio ma ti dirò ci sono degli studi che lo fanno fare ci sono degli studi che ad un certo punto dicono o abbia bisogno di voci nuove facciamo la stagionata di provini spesso e volentieri lo fanno oppure vanno da un direttore dicono o mi dai un po di nomi po di nomi nuovi di gente che non conosco c'è caso è caso è difficile però bisogna avere la pazienza c'è una voglia di fare e soprattutto quando hai l'occasione devi spaccare perché nel momento in cui l'occasione devi dare il settecento per cento soprattutto adesso che ci sono meno occasioni per per dire io ho fatto appunto un prodotto in uno studio dove non avevo mai lavorato però ho fatto un tipo di prodotto questo studio fa anche altri tipi di prodotto io ho chiesto alla chi si occupa delle distribuzioni se potevo farmi provinare da loro sugli altri tipi di prodotti perché appunto detto non abbiamo mai lavorato insieme di base abbiamo lavorato insieme questa volta per la prima volta se avete piacere vi va di sentirmi loro venitano guarda cristiana realtà ti vorremmo dare un turno niente provino ti facciamo balzare il provino certo ma una volta che questo si ricollegano domanda che vorrei fare però prima finisci cristiano no è semplicemente il concetto è come dice vale nel momento in cui tu hai un'occasione per me per dire è stato appunto il turno che ho fatto per la prima volta con questo studio mi butto lo chiedo tanto la cosa peggiore che possa che possa accadere che mi dicono di no esatto 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 se lo chiedo e mi dicono di sì è andata bene se lo chiedo e non lo dicono di no e mi dicono di no e come se non è come se non l'avessi chiesto ma se mi dicevano di sì io non avrei ottenuto soltanto per paura di chiederlo so che è difficile ragazzi agli aspiranti che sono in ascolto so che è difficile a volte vincere la paura ma dovete farlo dovete farlo se volete fare veramente questo mestiere io volevo chiedere infatti spesso mi è stato detto appunto che per iniziare questo a fare questo mestiere devi andare appunto nei studi di doppiaggio ad assistere spesso cioè farti vedere tanto e farti conoscere la domanda è effettivamente per vostra magari esperienza personale vi siete proprio fatti conoscere dal direttore e dopo un po di tempo gli avete chiesto un provino o tipo dopo qualche volta cioè come come fate solitamente come come dite che è meglio diciamo che per mia esperienza i primi provini che ho fatto sono stati così cioè non è che non è che ho conosciuto il direttore ed eravamo amici però si è andato tante volte però io andavo qualche volta ad assistere e poi quando me la sentivo quando dicevo ok penso di aver capito cosa vuole questo direttore ok glielo chiedo ma dopo un po quando diciamo sentivo anche un po la pressione cioè purtroppo quando si è agli inizi si ha sempre un po fretta di fare le cose sì ma voglia diciamo che io in primis l'ho provata e questa cosa spesso e volentieri mi ha portato a chiedere subito provini per fortuna tuttora non mi sono mai bruciato però può capitare ragazzi cioè ti puoi bruciare quindi bisogna stare attento ecco per dire io mi sono bruciato invece una volta io dopo un po di volte che facevo provini ho detto o ormai tra virgolette le cose penso di saperle fare quando ho l'occasione siccome soprattutto in quegli studi in cui non ti fanno mai entrare capita quella volta che ti fanno entrare dice ok adesso è il momento di rompere devi essere perfetto adesso è momento di rompere i coglioni adesso è il momento di chiedere o mi fai un provino un giorno in un giorno perché in quello studio era finalmente dopo mesi che ci provava ad entrare mi hanno fatto entrare ho fatto tre provini in quello studio tre provini con tre direttori diversi perché rompevi i coglioni ho detto sono qui finalmente sono qui chissà quando potrò tornare ed era la prima volta che li vedevi era la prima volta che li vedevo quindi diciamo un po capire la situazione soprattutto si dipende dalla situazione un po cogliere quel treno no che parlavi all'inizio esatto sì che per tanto mal che vada dicono di no alla fine esatto ma certo è un po la stessa cosa che mi succede anche adesso quando capita che ultimamente mi è capitato di andare a roma a lavorare a roma io conosco pochissimi direttori ogni volta che capito in studi che vedo ci sono direttori nuovi io rompo subito in coglioni con ciao mi chiamo alessandro che avresti voglia di sentirmi oppure che ne so mi è capitato che ero in buonissimi rapporti col direttore con cui stavo lavorando a roma e gli dicessi settima se chiedo provini mi rompono già mi mi dicono di no oppure fanno no vini che ti presento io e capitava che il direttore con cui avevo lavorato quel giorno lì mi presentava però all'inizio devi come dire devi capire cosa vuole il direttore quindi non è che tu vai per la prima volta in studio dopo che sei uscito dal corso assisti una volta che posso fare il provino a meno che non sia un fenomeno a meno che il direttore che ti ha fatto il corso ti ha detto oh sei un fenomeno vai spacca tutto che non capita mai perché nessuno è un fenomeno nessuno è andato imparato nessuno arriva studiato in questo mestiere nessuno arriva studiato quindi questa è un'importante verità perché dà speranza a tutti ragazzi ricordatevelo sempre tutti quanti hanno studiato nessuno sapeva parlare bene nessuno sapeva recitare ragazzi io con la parentesi secondo me edizione lo dovrebbero insegnare a scuola sono d'accordissimo lo dico sempre lo dico sempre allora io ho fatto io sono uscito l'anno scorso dalle superiori quindi ho fatto un corso di public speaking ci hanno fatto fare in cui io studio comunque da un po sia edizione doppiaggio che recitazione tutto in cui ho fatto praticamente quello che ho sempre fatto in tutti questi corsi cioè fondamentalmente il public speaking è cioè quindi noi ce l'hanno fatto fare per la maturità in previsione della maturità quindi imparare a stare davanti a delle persone a parlare ed è imparare a esprimersi con la dizione quindi riuscire a parlare in una maniera decente e a saper recitare nel senso di riuscire a dare un tono accattivante a ciò che stai dicendo in quel momento e quindi alla fine per quanto mi riguarda per crescere delle persone che sappiano stare all'interno di una società il sapersi esprimere saper parlare bene è una cosa fondamentale secondo me bisognerebbe appunto che tutti lo sappiano fare secondo me in italiano piuttosto che a fare per esempio alle medie antologia cioè che si leggevano dei testi neanche gli autori eh antologia proprio dei testi inventati così delle fiabe le cose così io piuttosto magari togliere qualche ora quello per insegnare proprio a parlare italiano cioè si chiama italiano io preferirei imparare a parlarci in italiano esatto beh sì ci sarebbero tante cose da dire su questo discorso ma forse è meglio che non entriamo nei particolari no più che altro ecco io sono dell'idea che cioè sì è importante studiare la letteratura ma se non studio anche come quelle persone sono diventate in grado di avere quella proprietà di linguaggio allora è completamente inutile ma sì ma la letteratura si basa su delle cioè insegna di persone che sanno esprimersi molto bene ti insegna a saper leggere cioè come come pretendono magari alle superiori di farti leggere dei dei testi di pirandello di autori comunque vecchi tra virgolette lo sono non è che dice niente di strano no no vabbè perché ci sono più più contemporanei e meno contemporanei però nel senso come fanno come fai a farlo se non ti è mai stato insegnato come leggere tantissimi compagni con i quali ero in classe leggevano cioè leggevano proprio leggevano cioè si sentiva la lettura no e a volte mi cadevano le palle a terra la vispa teresa avea tra l'erbetta proprio mi cadevano i coglioni certe volte perché dicevo ci sono dei testi così belli e sentirli letti in questo modo non ce la faccio mi dava un fastidio immenso perché quando una persona ti sa parlare in un certo modo è molto più bello è molto più interessante e quindi secondo me più magari alle elementari dove impari le basi e sei facilmente malleabile insegnare a parlare correttamente potrebbe essere una cosa interessante e poi dar spazio alla letteratura in questo modo riusciresti a comprenderla ancora meglio forse quindi non è un'idea stupida quella no sono d'accordo soprattutto nell'ottica in cui già di base noi abbiamo un problema in questo momento di alfabetizzazione in italia secondo me insegnare edizione potrebbe essere un modo per ricominciare a curare questo tassello possiamo dire così bisognerebbe dare più spazio proprio alla lingua italiana in sé piuttosto che al semplice come l'hanno utilizzata le persone più che ma che poi semplicemente il concetto non è che quello che vogliamo far passare non è che l'italiano la lettura italiana quello che ci insegnano a scuola è inutile no semplicemente è inutile nel momento in cui io so che tipo pirandello ha scritto i giganti della montagna ma se io non imparo ad avere gli stessi strumenti che cosa a che cosa mi è servito sapere che pirandello ha fatto i giganti della montagna sì bravo ok ma il problema è che non lo puoi apprezzare nemmeno a pieno esatto ci sono delle cose dei testi veramente belli ma che utilizzano un 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 vocabolario molto alto locato e se tu non conosci la lingua italiana sulla quale non ci viene insegnato molto perché ormai si pensa che l'italiano sia quello classico quelle duemila parole che conosciamo tutti e stiamo a posto no ed è normale che poi nel momento in cui ti approccia dei testi così complicati poi dici ma che cazzo sto leggendo ed è un male poi capita che ci sono quelle persone che dicono no figa sta parola vediamo cosa vuol dire esatto ma esiste questa parola sì 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 anch'io sono un po fissato con le parole italiane intanto dico ma perché abbiamo un vocabolario gigantesco rispetto a una cosa abbiamo abbiamo la possibilità di ampliare la nostra proprietà di linguaggio praticamente all'infinito sì sì e non lo facciamo ma lo ha dimostrato ecco guarda c'è stato perché preferiamo cazzo culo figa no mi dissocio ovviamente signori c'è stato c'è stato quell'esempio della ragazza del collegio che è stata molto presa di mira perché lei parlava bene cioè perché lei sapeva tanti termini e diceva parole che diceva parole che magari le persone non conoscevano no per esprimere semplici concetti poi nel senso no e le persone oh ma come parli tutta così ma questa qua parla tutta strana ma non parla strana cioè io non capisco come come sia possibile una persona venga presa in giro perché sa più parole italiane davvero incredibile io venivo presi in giro a scuola per questa cosa io venivo presi in giro a scuola per questa cosa dai capisci cioè perché perché sembra che che parli strano cioè hai capito ma cosa vuol dire non è vero sei tu che che hai un vocabolario povero esatto e c'è stato ci sono stati diversi discorsi da ted per esempio in cui veniva esposto quanto sia limitato il vocabolario medio italiano e ci sono veramente poche parole rispetto a quelle che ci sono effettivamente nel dizionario cioè comunemente pochissime persone conoscono tante parole le conosciamo veramente poche usiamo sempre le stesse domanda dalla chat sempre di lupen channel l'ultima volta che ho provato a dialogare con un direttore fuori da uno studio mi disse di mandare il proprio showreel di ciò che si è fatto ma non ma se non si annulla essendo agli inizi cosa come posso creare un video di cui nemmeno accettano i fan dub e questo è un problema in effetti questo è un problema ma ti dirò che spesso volentieri sento dire dire direttori che quasi non conta neanche quello cioè non conta neanche lo showreel neanche di quello che hai fatto perché effettivamente e danno ragione io cosa ne so che tu hai fatto questo al primo o al decimo o al ventesimo o al centesimo take è lo stesso discorso dei fan dub cioè a me interessa come tu lavori esatto quindi ci sono quei direttori che invece non vogliono le showreel che vanno solo a passaparola che si fanno consigliare voci da altri direttori è un po così non saprei come rispondere al è in quel caso secondo me bisognerebbe tentare con qualche altro direttore infatti gabriele dice come si reagisce alle richieste dei direttori è fondamentale sì assolutamente nel momento in cui un direttore ti fa una richiesta come appunto lo showreel se ti chiedo lo showreel essenzialmente anche per sentire come interpreti quindi di base la il mio consiglio è sempre quello di fare un po di lettura interpretata più che doppiare scene di un anime di un o di un film è meglio includere anche quello però la lettura serve sempre perché hai bisogno di hai bisogno di mostrare quanto più possibile quanto sai muovere la voce e quanti colori sai dare e spesso e volentieri appunto in un testo questa possibilità ce l'hai poi appunto provare una scena è anche utile ma magari se ti chiede questo livello di fan dub che devi se devi fare appunto uno showreel e non hai niente da mandare se hai qualcosa da mandare mandalo se ti chiede questa cosa probabilmente è un ipotizzo un direttore comunque magari vuole lavorare con qualcuno non ha le prime armi nel senso qualcuno che anche nel senso che presumo che sia una persona che non gli interessa chiamarti per un primo lavoro proprio può essere sì anche può benissimo essere anche questo il discorso è che lo showreel può essere perfetto ma al momento in cui io ti chiamo anche perché poi non è che fai sempre non è che fai sempre lo stesso personaggio voglio dire magari su quel personaggio hai lavorato in un certo modo ma c'è qualcosa che ti può mettere in crisi nel senso magari mi hai inciso qualcosa di un prodotto che magari hai portato proprio nello showreel un prodotto di qualcosa che conosci alla perfezione che ti è andato molto bene c'è un libro magari che hai letto tante volte un film che hai visto tante volte quindi sai praticamente a memoria le intenzioni è sempre un lancio della moneta lavorare da casa o fare un fandab da casa ecco perché tra parentesi sono dell'idea che il fandab ci sta come esercizio ci sta come divertimento ma nel momento in cui si vuole iniziare a fare sul serio questo lavoro bisogna accantonarlo perché non è professionale semplicemente ma più che quello secondo me è che a forza di far fandab a forza di fare queste cose rischi che prendi delle abitudini che in studio non ti puoi permettere e che nessuno poi ti fa notare finché non vai in studio perché poi lavori da solo quindi nessuno ti dice stai sbagliando questo è sbagliato ti corregge io ne ho fatti di fandab ho provato per esempio oggi stesso a rifarne uno dopo anni che non ne facevo uno ma alla prima incisione ho smesso perché io credo che ci sia anche una sorta di 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 switch da attivare nella mia testa ok nel momento in cui io entro nella entro nella sala di doppiaggio succede qualcosa non riesco a a prenderlo nello stesso modo qua a casa non so se riesco a farvi capire no sei chiarissimo sei veramente chiarissimo ti giuro ovviamente l'orecchio autocritico ci vuole sì ma poi soprattutto nel momento in cui magari tu inizi a fare un fandab essendo da solo e non essendo abituato magari a correggerti magari puoi anche avere l'orecchio critico però ti entra talmente l'intenzione che non riesci più a scollartene a differenza di quanto magari potrebbe fare un direttore se tu imbocchi una strada da cui è difficile riuscire il direttore tira chiappa dice no ma in quella direzione la di là non va bene sì e cioè per esempio ho trovato quest'estate che è passata mi ricordo che ho trovato dei video dove proprio all'inizio agli inizi proprio si parla di quattro estati fa quando studiavo trovato delle robe ragazzi cioè che ho fatto che non ho mai pubblicato che ho messo privati tutti i miei fandab ha fatto a caponare la pelle veramente io ho messo privati tutti i miei fandab cioè io io mi sono riascoltato io avevo fatto per gioco con dei miei amici il trailer di promer avevamo avevamo anche rifatto gli effetti speciali guardando il trailer mi ero venuto così la curiosità a dire dai vabbè vediamo che come era stato il nostro risultato come l'avevamo doppiato il mio commento finale è stato ammazza che belli gli effetti sonori non mi non ho voluto commentare il nostro doppiaggio perché soprattutto io dicevo minchia facevo proprio schifo ma proprio schifo io non che adesso sia tanto meglio è per carità ma sei migliorato con un sacco sulle scene di vikings io fissatissimo con vikings e poi hai fatto vikings anche se non sbaglio sì poi alla fine sono finito a farlo incredibile infatti mi allenavo un sacco sulle scene di vikings è veramente cioè tipo una scena famosissima che non dico per magari per non spoilerare qui appunto riascoltando era una delle prime cose che ho fatto proprio quando studiavo che le ho fatte proprio a casa mia ho detto ma minchia questo ero io madonna quanta strada che ho fatto per fortuna sì 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 io mi vergogno di aver risentito alcune cose che quando mi ricordo che quando le 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 facevo dicevo no vabbè bellissimo magari bellissimo no ma dicevo no vabbè bellissimo no però dici cavolo cioè ci sto abbastanza carino dai accettabile certo esatto poi le riascolti e dici cos'è sta roba va bene no e soprattutto il fan hub è pericoloso appunto perché essenzialmente è un lavoro dove non ci mette mano un esperto e non ti può dare indicazioni non ti può far sentire degli errori io di base cioè sono a favore dell'esercizio a casa quando magari è finalizzato all'addizione quando è finalizzato all'articolazione alla proprietà del linguaggio alla velocità perché qualcosa che se ti danno un'indicazione tecnica scritte di e ti dicono fai così ma anche cercando su internet è qualcosa che su cui da solo a casa ti puoi esercitare perché l'addizione voglio dire magari puoi anche aver bisogno di un insegnante ma per sapere che si dice dopo e non dopo ti basta letteralmente cercare sull'olivetti magari o sul DOP mentre un'interpretazione attoriale necessita inevitabilmente quanto meno di una persona esperta e tra parentesi ragazzi non ricercate secondo me neanche il parere dei colleghi sul ma questo fan d'ab come è venuto a perché credetemi è fastidioso è fastidioso soprattutto alla lunga b perché magari quel quel collega magari non se la sente neanche una volta che lo ascolta e non è il vostro fan d'ab non è buono di dirvi il fan d'ab non è buono e non è perché vi vuole prendere in giro ma perché ha la sensibilità di magari di non volervi riferire i pareri che dovete cercare sono sempre soltanto quelli di direttore fine non c'è niente da fare almeno per me è così non so non so ale come la pensi tu sì io personalmente non farei mai sentire un mio fan d'ab un fan d'ab vuol dire che non è andato in onda una cosa che non è non ufficiale non ufficiale personalmente io non la farei mai sentire un direttore c'è per come sono fatto io poi per carità uno che vuoi ma anche io figurati quindi ma già con sta storia dello showreel non si capisce bene ma per dirti e io prima della pandemia io ho mandato un po di showreel in giro anche a persone con cui poi ho lavorato ho preferito mandare showreel uno showreel breve molto breve con le pochissime cose che avevo fatto piuttosto che incicciarlo con del fan d'ab perché magari il fan d'ab copriva quanto di buono avevo fatto nei lavori ufficiali sì sì ma infatti a parte che lo showreel deve essere breve cioè almeno due no però è però era era sotto il minuto il mio perché avevo fatto veramente troppa poca roba ma deve essere così cioè immaginate immaginati ok mettiti nei panni di un direttore che gliene arrivano 100 al giorno e guarda showreel da 20 minuti 5 minuti l'uno cioè sto qui si deve prendere mezza giornata no quindi dipende io diciamo non ho avuto molti ingaggi tra virgolette tramite lo showreel ma non perché il mio showreel faccia schifo almeno spero di no ma perché lo guardano non lo guardano oppure lo guardano ma pensano ok magari questo viene qua e mi fa schifo e mi fa perdere tempo sono tante cose sono d'accordo alla fine l'unica cosa importante è come come lavori quando ti viene data l'occasione e lavorando bene a lungo andare si fa questo mestiere perché è la fin fine se tu lavori bene e i diretti a direttori piaci poco alla volta il passaparola lo si fa accade io ho partecipato a una serie una delle prime serie che ho fatto ci ho partecipato proprio perché un direttore che mi aveva ascoltato che non aveva la possibilità di inserirmi perché non faceva distribuzioni però gli venne chiesto ad un altro direttore scusa ho bisogno di voci nuove di ragazzi giovani mi basta un nome solo lui fece il mio ci sta invece il mio spesso e volentieri è così che si lavora che si riesce a farsi conoscere tramite il passaparola se riesci a fare buonissime impressioni un direttore non ci vuole niente che lui vada in giro a dire o ragazzi questo è bravo questo è bravo questo sa fare provatelo dategli una chance dategli una chance io direi che possiamo iniziare ad avviarci verso la il climax di questa live verso l'apex di questa live chiarandoti di una serie che so so che a te tu ti sei ci sei un po legato visto che hai tipo esultato a una certa parlo dei dei mafiosi londenezzi ok gangs of london sì se non sbaglio è stato uno dei tuoi primi prodotti da protagonista può essere il mio primissimo protagonista sì tra l'altro da quel che ricordo da una chiacchierata che facevo è stata una delle caratterizzazioni che hai dovuto mantenere più a lungo nella tua attuale carriera giusto in che senso che è durata un po la lavorazione di gang of london o sbaglio ah ok ok sì sì ma più che altro perché a parte che il personaggio mi piace molto proprio anche il come carattere sapevo lo sapevo che veniva fuori sta storia bastardi che non siete altri e come dire questo stile molto cupo molto criminale mi piace un sacco ed ero talmente legato cioè sono talmente legato al personaggio che quando uscivo dai turni di games tipo uscivo con l'odio dentro guardavo io odio tutti tu mi fai schi tu mi fai schifo tu mi fai schifo e tu tu fai più schifo degli altri sì sì ci sono molto legato prevalentemente perché è stato il mio primo protagonista grosso poi sky tanta roba quindi sono molto contento di essere stato scelto per per gangs tra l'altro dovrebbe si si parla della seconda stagione davvero si vocifera una season 2 ma a season 2 è già stata annunciata in teoria dovrebbe essere già stata fatta e dovrebbe hanno detto che usciva ai primi del 2022 io non so ancora niente quindi si vedrà speriamo cioè si è andata bene dovrebbero richiamare sempre te oddio spero di sì non si sa mai in questa vita però vorrei sapere invece qualcosa più di te proprio te alessandro io tu come come persona che sono il personaggio peggiore che ho fatto perché no tipo appunto lei prima lei prima dottore si è definito una persona comunque che videogioca o sbaglio sono un grandissimo nerd ecco tipo cinar le sue esperienze videoludiche più significative per lei qualcosa che le piace ce n'è solo una giorgia 97 26 dice ma come si mette a ridere grande giorgia una sorella ma in che senso ma come non ho visto cosa ti sei tatuato il simbolo dell'orda per l'orda ragazzi andrew mio fratello vabbè si world of work ha speso tantissima parte della mia vita qui dentro e adesso sto mi adesso mi ci sono un po allontanato per fortuna e stoner dicchiando un po così a league of legends però sto aspettando al del ring dobbiamo ricominciare a giocare insieme dobbiamo ricominciare a giocare insieme a te ma tu sei scarso se un bronzino no scherzo anche io sono scarso vabbè adesso vediamo dai comunque adesso appunto arrancare un sacco visto che è uscita la season quando è che tra parentesi ecco prima hai parlato del fatto che comunque ne hai fatto valorant però quando hai visto hai visto riot games hai subito flashato league of legends ti piacerebbe fare uno dei prossimi campioni ma tra l'altro con gli annunci che ci sono stati oggi di league diciamo che la pressione a chi di dovere l'ho fatta e spero se mi ricordi hai chiesto hai proprio chiesto esplicitamente sì sì ho detto se ti arrivo un campione ti prego pensami ue ue mettiti in coda eh ma se per questo se per questo in coda ci sono anche io probabilmente uno degli ultimi siamo tanti tu lo sai tra l'altro il campione che hanno presentato oggi con la cinematica lo ha doppiato federica giusto la simona è grandissima è veramente veramente bravissima federica ma ultimamente sta facendo un sacco di roba anche lei nas class ha fatto sakura e la nuova voce di conone dogawa ha fatto ha fatto uno dei pilastri in demon slayer pure lei che tra parentesi ero lì quando ero lì ad assistere quando quando lei fece il suo primo turno mi sa che c'era un giro quando c'eri anche tu mi ricordo davvero è stato vero mi sa che noi ci siamo incrociati proprio lì per la prima volta però mi sa che sei andato via quando poi sono entrato mi ricordo sinceramente io mi ricordo che ci siamo incrociati in studio per la prima volta poi ci siamo sentiti anche su discord eccetera ma c'era un sacco di gente quel giorno c'è Andrew che ci guarda con la faccia dell'odio diciamo sì sì fatti pure i fatti vostri voi no 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 vedi appunto una cosa brutta della pandemia che una volta negli studi incontravi gente parlavi ma parlavi adesso io guarda l'unica persona che ho incrociato negli ultimi turni che ho fatto il direttore il fonico facendo assassination classroom a fortuna sono riuscito a incrociare desantis e a salutarlo perché non lo vedevo dal 2020 tipo da febbraio 2020 io lo becco sempre è uno di quelli che non so perché lo becchi tanto e ogni volta che vado in studio becco sempre i soliti ma sempre ti giuro veramente persone che invece tipo ci sono alcuni che non ho mai visto adesso non mi viene in mente nessuno però oddio non lo so non mi viene in mente però comunque ci sono alcuni non le sovviene non li ho mai visti ok non li ho mai incrociati devono essere anche i nuovi anche io ero uno di quelli che non avevi mai visto credo no ok a parte i nuovi cioè ti sto parlando di persone conosciute cioè i doppiatori che lo fanno da millenni che le dovrei incrociare perché ogni volta arrivo vedo il loro nome dico porca troia non potevo essere io il turno quel quel giorno lì cerco di gente che non riesco mai incrociare infatti mi dispiace ecco tra parentesi com'è l'emozione di magari crescere con delle volte stavo pensando quella domanda libro è vai vai nel senso quando incontrate un doppiatore magari che conoscete di nome o apprezzate come vi ponete beh io fermate io devo solo fare una cosa io sto così vai alle rispondi io sto così no io non ho come dire non ho una reazione esagerata cerco sempre di trattarli come delle persone quali sono quindi cioè non è che dico sei dio per me che effettivamente è così dio per me però non è che oddio insegnami però ovviamente se c'è l'occasione se vedo che magari stiamo parlando un attimo stiamo prendendo un caffè insieme che ne so gli dico comunque io ti stimo tantissimo cioè è capitato spesso e volentieri che lo dicessi a alcuni colleghi che gli dicessi guarda secondo me lì sei stato fenomenale ho solo da imparare da te sei bravissimo cose così ma perché io sono così cioè proprio sono sincero preferisco dirle queste cose quando sono vere certo quindi io mi comporto così ma ovviamente stando nei limiti dell'umano cioè non cerco mai di andare oltre cioè non è che oh ma te sei un grande che capita oh ma te sei quello che ha fatto questo oh sei un grande oh ma fai la voce di lisa simpson sì sì ma ecco curiosità come ti poni nei confronti di chi tipo tartassa di richieste di audio personalizzati su instagram e social ma guarda per fortuna non è che mi tartassino troppo sinceramente a me fa solo che piacere quindi se ho tempo e voglia lo faccio volentieri so per esempio di colleghi sono di colleghi che per quanto le ricevano a migliaia centinaia anche rispondono a tutti tipo so che è alessandro campaiola la voce di eren jäger risponde letteralmente a tutti sì lui è vero mentre altri per scelta personale preferiscono non farlo con nessuno perché dicono se rispondo a uno dovrei rispondere a tutti non ho chissà quanto tempo alla dedicare quindi preferisco non farlo non farlo con nessuno ed è una scelta legittima secondo me però bisogna anche mettere un po un mini muro perché l'avvento dei social prima lo dicevamo proprio in apertura di live che secondo me è il modo anche più carino per chiudere ha sdoganato troppo il vabbè se lo fa lui lo posso fare anche io perché i doppiatori vengono percepiti come molto vicine differenza del passato dove era tipo un sono così distanti da noi non li conosceremo mai ora letteralmente cerchi il suo profilo instagram e gli iscrivi ora per dire la nostra chat è in live qui con noi e possono interagire con te sicuramente fa piacere però bisogna comunque ricordarsi che c'è una persona appunto dall'altra parte dello schermo la cui privacy forse è meglio che non venga in basa più di tanto più di quanto quella persona magari lo conceda ma è anche allacciando il discorso che facevo prima riguarda quando incontro quelli che per me sono i miei miti sì sono sempre persone ragazzi cioè non è che devi andare lì no ah te sei quello che è oh mio dio hai fatto questo cioè anche per il discorso dei vocali se mi scrivi e me lo chiedi che sei una persona normale me lo chiedi con i giusti modi per carità te lo faccio super volentieri sono felicissimo ma ho avuto anche persone mi dicono oh mi fai quello punto no io sono una persona carina e coccolosa ma se mi chiedi queste cose buono sì fesso no esatto io mi sono ritrovato nella condizione di dover chiedere per dire per una mia amica che passava un brutto brutto periodo ed era molto fan di valerio lundini le ho fatto un regalo di compleanno e ho chiesto guarda senti te lo chiedo proprio dal profondo del cuore puoi farmi questa corsesia perché sta molto giù non è un periodo facile e una tua grandissima fan sono sicuro che un audio personalizzato per lei le tirerebbe molto sul morale e lui me l'ha fatto mi ha detto guarda io tendenzialmente queste cose non le faccio ma per leggendo quello che mi scrivi mi sembra una persona a modo quindi per te e la tua amica lo faccio volentieri basta quella cosa che magari ogni tanto le persone si ricordano di anzi si dimenticano di avere che è l'educazione esatto l'educazione ragazzi siete sempre sempre educati Ale hai progetti ultimamente cose che stai avviando cose segrete di cui non ci puoi parlare cose in realtà non lo so perché inizio settimana rinizio settimana prossima lavorare dopo uno stacco di due settimane per vie di covid quindi via di covid più feste quindi lo saprò settimana prossima però lo speri ecco lo spero ma diciamo che gennaio e febbraio tendenzialmente sono i periodi nel doppiaggio dove c'è un minimo di flessione un po' più di calma e meno di calma e febbraio sono due mesi calmi sono mesi un po' più calmi e invece otto turni madonna e pensare che l'anno scorso ho fatto mi sa tipo un turno a gennaio capita io mo per dirti non lavoravo da un pochino ho fatto quattro turni in tre settimane ci sta ora a gennaio non so quanti ne farò a febbraio magari ne farò di più di gennaio o meno di dicembre non chissà è sempre così è un lavoro in itinere in divenire esatto lei signor Andrew invece che cosa fa sui social ultimamente? ma vado male fondamentalmente no dai non lo dica i social non mi stanno aiutando tantissimo ho passato un momento di depressione un momento di pigrizia secondo me da vacanze mi sono forse un po' troppo tormentato per questa cosa perché sono abituato ad essere abbastanza produttivo quindi nel momento in cui mi stoppo mi sento in colpa diciamo meno fai meno faresti diceva la mia vecchia esatto esatto e quindi ho avuto un attimo un periodo così però adesso con la fine delle vacanze mi sono ripigliato solo che i social non mi non gli sto più simpatico dopo la mia pigrizia quindi è un momento di ripresa anche qui devi insistere devi continuare io insisto infatti assolutamente ma io ho stato pigro tipo adesso una settimana o due ma ho fatto un anno di social adesso a dicembre e non mi sono mai fermato è stato proprio una settimana o due adesso quindi avevo bisogno di staccare perché sennò uno smatta una certa no ma guarda io infatti avevo bisogno di queste vacanze perché a Milano stavo impazzendo nell'ultimo periodo non riuscivo veramente più a fare nulla con serenità esatto e non si può andare avanti così il troppo stroppe come si dice stroppe il troppo stroppe ecco il troppo stroppe esatto signori miei popolo di anime popolo di anime click eh infatti dice Demetrio 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 che è il mio moderatore fidato ah c'è un sacco di gente che mi segue ciao a tutti che cari una pausa ogni tanto è d'obbligo certo nel momento in cui un lavoro richiede il tuo impegno e c'è bisogno di te magari lo fai sì lo fai nel momento in cui puoi adagiarti un attimo ci sta secondo me sì ti riposi ti ricarichi soprattutto anche perché nel momento in cui devi lavorare così arrivi più assolutamente sì sì poi ne risentono i contenuti comunque cioè nel senso sì infatti io stavo facendo le cose a forza ma non andavano più bene quindi mi sono un attimo stoppato e per ricominciare poi esattamente come sono fatto io per il doppiaggio non mi fermerai mai vabbè ma manco è un'altra cosa neanch'io se io avessi se io avessi da lavorare quando sono arrivate le feste ero tristissimo ho detto no se io avessi da lavorare ogni giorno non andrei mai in vacanza personalmente esatto eh ma è una magia secondo me nel mondo del doppiaggio perché se lo vuoi fare proprio perché ti piace proprio farlo e quindi neanch'io personalmente adesso poi io non l'ho mai fatto il turno cioè non l'ho mai lavorato quindi nel senso non lo so effettivamente con mano però neanch'io penso che andrei in vacanza signori miei io vi ringrazio per essere stati su questo canale questa sera e tra parentesi invito tra l'altro Demetrio ti ringrazio per ha fatto un circo in un bittino ti ringrazio Demetrio grazie grazie di cuore grazie Demetrio avete dei social da spammare tipo lei signor Alessandro dove la possono trovare su Instagram Facebook in realtà ce l'ho ma non lo sto usando da non lo usa più nessuno Facebook è morto io l'ho cancellato l'altro giorno vabbè mi trovate su Instagram lo uso ogni tanto non sono un grande influencer sorry fact sorry fact non sono un grande influencer però però è simpatico però gli si vuole bene lo stesso io ho seguito mentre lei signor Andrew Patata Ave sì mi trovate ovunque ragazzi anche nel vostro nella vostra dispensa di casa probabilmente ci sono anch'io a rubare il riso quindi Twitch YouTube TikTok Instagram tutto tutto signori io vi ringrazio per aver seguito questa intervista anzi grazie di cuore veramente ai miei ospiti per stasera l'ospite al confondatore perché sono stati sono stati dei teneri gli voglio tanto bene tra l'altro il signor Ale è la prima volta credo che si presta un'intervista ed è andato bene si è divertito è stato bene chissà lo diranno loro se sono andato bene sto chiedendo però a lei se si è divertito io sì è una bella chiacchierata e lei signor Andrew si è divertito a farmi da spalla ma io sempre assolutamente aspetto la prossima chiamata anzi quando mi hai detto che il conduttore continua a cambiare ci sono rimasto un po' male mi sarebbe piaciuto faccio sempre girare perché mi piace mi piace far variare anche le persone se ti servisse un co-conduttore un co-co-co guarda vediamo vediamo tanto prima o poi arriverà il momento in cui mi indoro a intervistare da solo no si scherza non sono così narcisista non sono così narcisista dai non si sa mai o forse no e magari arriverà il giorno in cui intervisterai me signori io vi faccio fare un bel raidino sto vedendo chi è disponibile in questo però è soprattutto voglio vedere versione qui non l'abbiamo mai fatto aspetta cosa abbiamo fatto ieri ieri c'è anche tu con kirio no sì certo sì abbiamo fatto il a un ragazzino no dai facciamo una persona no no assolutamente a qualcuno che ha pochi spec ma grande ma che guarda ho una persona che conosco che fa la streamer ha una ventina di spec in questo momento vi mando da lei e dite che vi manda cristiano e lei capirà cristiano paglionico dite cristiano paglionico il barese quello di bari fate capire che sono io in qualche modo specificatelo se non lo capisce signori miei grazie di cuore per esserci stati noi ci vediamo allora vi faccio un attimo il recapino delle prossime live domani alle 3 con chuba click dove zero e angelo intervisteranno delle vtuber subito dopo alle 18 i nostri amici di gamer click faranno la tier list dei videogiochi tra il 2000 e 2010 domenica alle 2 ironic intervisterà marco pellitteri mentre poi alle 5 come al solito classico recap of the week signori miei vi auguro un buon weekend una buona serata buonanotte e se non ci rivediamo buongiorno domani ciao a tutti